Friuli Venezia Giuri e Kazakhstan si erano strette la mano già qualche anno fa. Una visione di collaborazione su più fronti, fra cui quello sanitario, che ha visto un nuovo spunto da un accordo sottoscritto a Udine fra il Cro di Aviano e il centro di riferimento oncologico e radiologico Kazior di Almaty, importante città kazaca. L'istituto oncologico Kazior che abbiamo visitato è uno dei più grossi istituti oncologici del Kazakistan. serve un enorme territorio ed è dotato anche di una scuola di specialità e quindi è un istituto nel quale si possono fare sia un'attività didattica ma soprattutto si può fare un'attività di ricerca. L'istituto Kazako, ha spiegato al direttore medico, può contare su personale molto preparato e su una scuola di specialità attiva in costante aggiornamento, caratteristiche che ne fanno un ospedale ideale per una collaborazione basata sulla ricerca medica con il Cro che può diventare la spalla ideale per spingere il partner nei circuiti internazionali. Abbiamo appunto potuto beneficiare noi e credo anche l'istituto Kazako di una settimana di lavoro insieme. Questa della formazione penso sia una delle attività nelle quali un istituto oncologico, un istituto di ricerca come il Cro deve esercitarsi, deve attivarsi e abbiamo trovato grande disponibilità in questo istituto, grande voglia di apprendere. Per noi, ripeto, anche per noi non c'è né la presunzione di andare ad insegnare, né la presunzione di avere tutto chiaro. Per cui questi incontri, queste occasioni di formazione con istituti, anche culturalmente abbastanza distanti da noi, ritengo siano veramente un'opportunità per entrambi di migliorare e di crescere. La regione Friuli Venezia Giulia ha favorito il protocollo d'intesa. Aviano contribuirà al trasferimento di conoscenze nelle tecniche del trapianto di midollo e nella raccolta e crioconservazione di cellule staminali ai colleghi kazaki.